sono nella zona che noi chiamiamo del depuratore mi immaginavo un danno del genere qui c'è un normale canale che è quello alto e che poi tenendo la sinistra la destra si convoglia qua di sotto come vedete invece attracciumato da tutte le parti praticamente qui c'è il sentiero dove c'è quelle rottame che era bene su a monte e ha creato altre vie in naturale eccolo qui la via naturale è questa quella che è alternativa che si è creata è di là e sta sommergendo tutto chi conosce la zona non la riconosce nessuno è chiaro perché in questo rio si convogliano l'arte della strada della ponte e ovviamente data alla quantità abnorme non ha detto e quindi oggi giorno di natale facciamo gli auguri a tutti e speriamo che questa situazione abbia un po' di alla prossima